Buonasera, Silvia con Ernesto Marco Duccio, inizialmente ho adotto questa bellissima serata di musica e allora, proprio perché di musica si tratta e di fisarmonica, io comincio subito a presentarvi il primo ospite della serata allora, è un ragazzo, un giovane talento italiano, signori, fisarmonicista e allora vi do due notizie su questo ragazzo allora, ha partecipato innanzitutto a varie trasmissioni quali per esempio TV Super con il grande Mario Gregorio, oppure per esempio la 7 Gold e ha partecipato anche a Canale Italia, signore in più è stato ospite di manifestazioni importanti con ospiti importanti come per esempio Omar Codazzi, abbiamo in elenco Simone Zanchini, niente poco di meno che e poi nel 2015 ha partecipato come ospite a Gatteo Mare con la grande orchiesa del grande evento nonché ex casadei, insomma signori, mi sembra già una buona presentazione ma non è finita, nel 2011 si classifica terzo in duo col fratello ad un concorso per scuole medie in provincia di Bergamo quest'anno ha partecipato ad un concorso internazionale di fisarmonica Bruno Serri in provincia di Modena e si è classificato al secondo posto nella categoria varie età e allora questo grande ragazzo con grandi doti questa sera ci esegue 5 pezzi farà il Carnevale di Venezia passiamo poi con Anna, la comparsita, occhi neri e per finire una bellissima ciarda signori e allora accogliamolo con un applauso Roberto Rossi e la sua fisarmonica grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.